Professor Pecorari, si soffre molto di mal di testa, ma quali possono essere le cause? Allora, dobbiamo dire che il 70% della popolazione soffre mal di testa ed è una patologia che interessa dai bambini agli anziani. Le cause sono numerosissime, talmente numerose che a volte non si può riconoscere la causa. Infatti noi distinguiamo cefalee sintomatiche, dove non si può assolutamente riconoscere la causa, da cefalee secondaria, dove la causa è assolutamente riscontrabile e quindi curabile. È una patologia che prevede la collaborazione di più specialisti, otorini, laryngoiatri, neurologi, neurochirurghi, ortopedici, perché è una valutazione d'insieme, non puramente ultra specialistica, di una specialità in particolare.